Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. La mobilità e il traffico si è regolarizzato su strade e autostrade della nostra regione. Lo sguardo al traffico ferroviario per avverse condizioni meteo nei pressi di Borgo Valditaro, il Trano 18, 389 Firenze Santa Maria Novella, Borgo Valditaro è limitato ad Aulla Lunigiana. I viaggiatori utilizzano il treno 3283. Siena viene oltre che domani 2 marzo per l'evento sportivo Strade Bianche a Siena. Diversi treni regionali in linea subiranno variazioni. Sono interessati i treni della Siena Buon Convento e della Siena Grosseto. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.